allora 13 ottobre 2019 e samuel giulio pronti per volare a borso della grappa 850 metri sopra il livello del mare c'è un po di foschia foschia ma allora facciamo lo stesso mi raccomando grazie a tutti Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Arrivati. Ce l'abbiamo fatta.